particolare anche la tua esultanza quasi a mettere il punto ad una settimana particolare ormai sono abituato a queste cose io penso lavorare bene e poi raccogliere la domenica e oggi ho fatto gol grazie a Matteo Guazzo ancora complimenti Gambino ti sei dato un grande affare ad un certo punto ho visto che ne avevi anche per il tuo compagno Memolla volevi voi probabilmente più palloni essere rifornito grazie a tutti